Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tra caldo record e forti temporali vediamo l'evoluzione meteo fino ai primi giorni del mese di luglio. Inizio dell'ultima settimana di giugno che vede un promontorio africano estendersi tra Mediterraneo ed Europa orientale, portando clima molto caldo in Italia. Temperature massime che potrebbero raggiungere e superare i 40 gradi su molte zone del centro-sud con possibilità di qualche record entro domani. Nel frattempo un piccolo cavetto d'onda si muoverà sulle regioni del nord portando temporali e nubi fragili anche intensi da ovest verso est. Nella seconda parte della settimana temporanea attenuazione della calura soprattutto al centro-nord. Principali modelli che mostrano per il primo weekend di luglio una nuova espansione africana verso il Mediterraneo e caldo intenso sull'Italia. possibile rinforzo dell'anticiclone delle azzorre sul lungo periodo ma per il momento resta solo un'ipotesi. Seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.